Si sono svolte importanti elezioni in vari paesi, dentro e fuori l'Unione, e come al solito negli ultimi anni siamo soliti guardarle con la prospettiva se si siano rafforzate forze nazionaliste o forze autoritarie o invece forze europeiste o comunque forze che mirano a rafforzare la libertà e la democrazia in quei paesi. In Turchia si è confermato primo il partito del presidente Erdogan, che però ha perso nella capitale Ancara e quasi certamente anche a Istanbul, a favore dell'opposizione, una grande coalizione che raggruppa tutte le opposizioni che si schierano contro la svolta autoritaria di Erdogan degli ultimi anni. Quindi un segnale importante da parte dell'opposizione della società civile turca. Mentre in Ucraina al primo turno sono andati al ballottaggio il presidente uscente Poroshenko e un candidato outsider, il comico Zelensky, che su una piattaforma anticorruzione ha sbarallato il campo raggiungendo il 30% dei consensi, ma dobbiamo ricordarci che l'est-Ucraina non ha potuto votare perché ancora in preda la guerra civile a bassa intensità tra l'Ucraina e le forze filorusse. Così come non si è votato in Crimea, che è l'area che è stata annessa dalla Russia durante la guerra con l'Ucraina. Mentre in Slovacchia, uno dei paesi del gruppo di Visegrad, ha vinto la candidata progressista Susana Caputova, una paladina dei diritti umani, della libertà di stampa, di espressione e dell'ambiente su una piattaforma fortemente europeista, democratica e liberale. Quindi tre elezioni importanti dentro e fuori l'Unione che ci mostrano un trend incoraggiante per quelli che sono grandi paladini dei diritti umani, della democrazia liberale e contrarie a svolte autoritarie come quella che abbiamo visto negli ultimi anni in Turchia.